È stato grazie ad una medaglietta con la foto della nonna defunta che i poliziotti sono riusciti a risalire all'abitazione che era stata razziata qualche ora prima e per un ladro sono così scattate le manette. La squadra volante della questura di Arezzo infatti questa notte attorno alle 4 ha fermato un 41enne di origine romena cosvariati precedenti in zona Trento Trieste dopo aver notato che l'uomo vedendoli aveva lanciato qualcosa dietro ad una siepe. Si trattava di una borsa al suo interno gli agenti hanno trovato liquori di marca e una grande quantità di preziose monete da collezione oltre ad una medaglietta con inciso il nome di una donna ormai defunta. Tramite l'identità della signora la polizia è risalita alla famiglia che aveva appena subito il furto in un garage nei pressi di via Beato Angelico. Durante la perquisizione a casa del 41enne gli agenti hanno poi trovato altra merce verosimilmente provento di furto, orologi, bigiotteria, monete da collezione ma in casa c'erano anche oggetti da scasso come motoseghe, trapani, avvitatori e pinze. Per l'uomo è così scattato l'arresto per furto aggravato convalidato questa mattina. A suo carico è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Arezzo con l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 9. Gli oggetti trovati nel borsone sono stati riconsegnati al proprietario mentre la merce sequestrata nell'abitazione dell'uomo verrà catalogata finché sia possibile individuare le vittime di altri furti. Le foto degli oggetti reinvenuti saranno visibili nel sito web della Questura di Arezzo.